Come ti chiami? Yugo. Yugo Cabret. Parigi 1931. La stazione è un crocevia di uomini e vite che si sforano distrattamente in una metropoli che ormai vive in un'esistenza scandita dagli onipresenti orologi che ne compartimentano ogni aspetto. Si può aggiustare? Certo che lo aggiustiamo. Nella stazione parigina però c'è anche chi ci vive stabilmente, come Yugo Cabret, orfano e ladro per necessità, silenzioso guardiano e manutentore degli orologi, custode di un segreto lasciatogli da suo padre, di cui ancora non comprende appieno la portata. Perché la mia chiave dovrebbe entrare nella macchina di tuo padre? Perito. Quando il ragazzino viene scoperto a rubare da Georges, l'anziano giocattolaio che ha il suo negozio all'interno della stazione, si rende presto conto di essere misteriosamente legato a quell'uomo burbero. E che il legame sta proprio nel lavoro lasciato incompiuto dal genitore, uno strano automa che lui e Yugo stavano riparando. Forse è ora che cerchi di ricordare. Con Yugo Cabret, a quasi 70 anni, Martin Scorsese si cimenta per la prima volta in più di una sfida. Si tratta innanzitutto dell'esordio del regista italo-americano nel campo del cinema per ragazzi. Si tratta secondariamente della prima volta in cui Scorsese si cimenta col 3D. Ma si tratta anche in fondo della prima volta in cui Scorsese parla direttamente in modo esplicito del cinema e della sua storia. Sarà alla ricerca di un messaggio segreto. Il regista si mette senza pudore ad altezza di bambino e narra della meraviglia unica e irripetibile provata da un ragazzino di fronte a quel fascio di luce proiettato su uno schermo gigante. È commosso e sincero all'omaggio del regista all'arte di Méliès, non a caso illusionista prima che cineasta. È la magia la chiave, non solo simbolica, di accesso alla storia.